bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo tutorial della pro multileague io sono nino e oggi andiamo a vedere le tre voci ranking albodoro e pallone d'oro come vedete andando sul ranking troviamo il ranking ovviamente aggiornato questo è un classico penso che quasi tutti sappiano cosa sia se non lo sapete informatevi poi c'è l'albodoro l'albodoro ovviamente vede tutte tutte le stagioni della pro multileague e poi c'è il pallone d'oro quest'anno il pallone d'oro è stato un po modificato strutturato in maniera diversa come vedete c'è il pallone d'oro c'è il miglior partiere miglior difensore centrocampista attaccante eccetera eccetera novità assoluta novità assoluta verrà stilata automaticamente dal portale in base agli screen ai voti che voi metterete una classifica una top 11 una formazione tipo e come vedete andrà a comporre la squadra in questo rettangolo verde queste sono più o meno le novità dettagliatamente del portale della sezione ranking pml albodoro e pallone d'oro ci risentiamo presto per un nuovo video e bella a tutti